Mi faccio mille viaggi, ma li tengo nascosti bene, che forse conviene, o desidero un po' comune un po' folle, si danno il cambio tra le tue lezze, questo è un viaggio, un'onda per farsa, dove tutto... Ad aprire l'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura di Castero del Vaticano che si occupa di favorire le relazioni della Santa Sede con il mondo della cultura, il gruppo Rock The Sun, insolita esibizione per la giovane band che ha suonato per cardinali e vescovi. Il tema dell'incontro che terminerà il 9 febbraio è culture giovanile emergenti, sono più di 60 provenienti da diversi paesi gli esponenti del mondo ecclesiale e della società civile che partecipano all'evento. Il tema dell'incontro che terminerà il mondo della cultura, il gruppo Rock The Sun, insolita esibizione per le tue 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 le E adesso lo sento, il senso lo trovo, in ogni momento. Io non voglio, io sono tivo, il figlio del segno, con te è l'ottimo.